Siete pronti per scoprire tutti i segreti e i colpi di scena che vi attendono nelle prossime puntate di Endless Love? Preparatevi, perché quello che sta per accadere cambierà per sempre le vite dei nostri protagonisti. Tenetevi forte e non perdete nemmeno un dettaglio, perché ogni momento sarà carico di emozioni, suspense e rivelazioni sorprendenti. Kemal, il nostro eroe dal cuore d'oro, è determinato più che mai a scoprire la verità sulla misteriosa morte di Ozan. Non può accettare che la morte del cognato resti avvolta nel mistero e il suo desiderio di giustizia lo spinge a scavare sempre più a fondo. Ma chi è il vero responsabile e fino a che punto Kemal è disposto a spingersi per far emergere la verità? Nel frattempo, Emir, l'antagonista senza scrupoli, si rende conto che le indagini di Kemal potrebbero mettere a rischio tutti i suoi piani. Comprende che l'unico modo per fermarlo è rivelare il nome del vero colpevole. E qui arriva il primo colpo di scena. Il nome che potrebbe emergere è quello di Zeynep, la sorella di Kemal. Riuscite a immaginare lo shock che questa scoperta potrebbe causare? Ma c'è di più. In un gesto estremo per proteggere se stesso e i suoi segreti, Emir decide di mettere in atto un piano audace e pericoloso. Ordina ai suoi uomini di rapire Zeynep e di rinchiuderla in un enorme pacco regalo destinato a Kemal. Un'idea folle, ma che potrebbe cambiare le carte in tavola. Tuttavia, all'ultimo momento, Emir cambia idea. Forse un ripensamento? O c'è qualcosa di più dietro questa decisione improvvisa? Il destino, però, è imprevedibile e un piccolo dettaglio sfugge al controllo di Emir. Durante il rapimento, Zeynep perde un mazzo di chiavi all'interno del pacco. Questo oggetto, apparentemente insignificante, potrebbe diventare la chiave, letteralmente, per svelare la verità. Quando Kemal trova le chiavi, inizia a sospettare. A chi appartengono? E se aprissero la porta di casa del colpevole? Le indagini di Kemal prendono una nuova direzione. Il sospetto che sua sorella Zeynep sia coinvolta nella morte di Ozan diventa sempre più forte. Immaginate il conflitto interiore che deve affrontare. Da un lato, il desiderio di giustizia. Dall'altro, l'amore fraterno che lo lega a Zeynep. Come reagirà quando la verità sarà davanti ai suoi occhi? Nel frattempo, Zeynep è travolta dalla disperazione. Aspetta un figlio da Emir, un uomo che ha portato solo caos nella sua vita. Il peso dei suoi segreti e delle sue colpe la schiaccia. Si sente sola, incompresa e senza via d'uscita. Decide di compiere un gesto estremo, togliersi la vita. Organizza il suo tragico piano nella casa di Heikan, dove ha trovato rifugio dopo essere stata cacciata via dal padre, furioso per la scoperta della sua relazione con Emir. Ma il destino, ancora una volta, interviene. Proprio nel momento in cui Zeynep sta per compiere l'irreparabile, Kemal arriva. Riuscirà a salvarla in tempo? E come reagirà quando si renderà conto della profondità del suo dolore? Il salvataggio di Zeynep porta con sé una rivelazione amara per Kemal. Ora non ha più dubbi. Sua sorella è coinvolta nella morte di Ozan. Il peso di questa consapevolezza lo travolge. Deve prendere una decisione difficile, proteggere la sua famiglia o fare ciò che è giusto. Decide di affrontare Zeynep. In una scena carica di tensione ed emozione, le chiede di raccontare tutta la verità. Zeynep, tra le lacrime, confessa le sue colpe. La verità è finalmente venuta a galla. Ma cosa succederà ora? Kemal la convince a recarsi dalla polizia per fornire la sua versione dei fatti. Ma sarà sufficiente? E come reagirà Emir a questa nuova svolta degli eventi? Facciamo un passo indietro e ricordiamo cosa è successo a Ozan. La sua morte è stata uno dei momenti più sconvolgenti della prima stagione. Ritrovato impiccato nella sua stanza d'ospedale, dopo essere stato ricoverato per una sospetta intossicazione alimentare. Ma c'era molto di più dietro. Prima della sua morte, Ozan aveva scoperto la relazione segreta tra sua moglie Zeynep ed Emir. Era determinato a smascherarli e a rendere pubblica la loro tresca. Ma qualcuno ha deciso di fermarlo per sempre. Ora, con la verità che emerge, le vite di tutti i personaggi sono sull'orlo del precipizio. Come reagirà la famiglia di Kemal quando scoprirà che Zeynep è coinvolta nella morte di Ozan? E cosa farà Emir per proteggere se stesso? Le prossime puntate di Endless Love promettono di essere ricche di emozioni forti, rivelazioni sconvolgenti e decisioni che potrebbero cambiare per sempre il destino dei nostri protagonisti. Amori impossibili, tradimenti, vendette e redenzioni. Tutto questo vi aspetta. Ma non è tutto. Ci sono ancora molti segreti nascosti che potrebbero venire alla luce e nuovi personaggi potrebbero entrare in scena, portando ulteriori complicazioni. Cosa nasconde realmente Emir? E Zeynep riuscirà a trovare la redenzione? E Kemal riuscirà a mantenere intatta la sua integrità morale di fronte a queste sfide? Non perdetevi le prossime puntate, perché ogni istante sarà fondamentale. Ogni decisione presa dai nostri protagonisti avrà conseguenze inaspettate. E voi non vorrete di certo perdervi nemmeno un colpo di scena. Se pensate che le sorprese siano finite, vi sbagliate di grosso. Nuovi intrighi, alleanze inaspettate e scontri epici sono all'orizzonte. La tensione è alle stelle e il destino di tutti è appeso a un filo. Quindi, rimanete sintonizzati e preparatevi a vivere un turbinio di emozioni con endless love. Le verità nascoste stanno per emergere e niente sarà più come prima. Chi troverà la felicità? Chi cadrà nella disperazione? Solo il tempo lo dirà. Ma aspettate, c'è ancora di più. Parliamo di Nihan, l'amore eterno di Kemal. Come reagirà quando scoprirà che Zeynep è coinvolta nella morte di suo fratello Ozan? Il loro amore riuscirà a superare anche questo ostacolo insormontabile? E che ruolo avrà Nihan nelle decisioni che Kemal dovrà prendere? Inoltre, Hakan, l'uomo che ha offerto rifugio a Zeynep potrebbe avere un ruolo chiave negli eventi futuri. Quali sono le sue reali intenzioni? È davvero un amico o nasconde qualcosa? La sua presenza potrebbe complicare ulteriormente le cose? E non dimentichiamo Leila e Ayan, personaggi che hanno sempre sostenuto Kemal e Nihan. Saranno in grado di aiutarli in questo momento di crisi? O saranno anch'essi travolti dagli eventi? Le dinamiche familiari saranno messe a dura prova. Il padre di Kemal e Zeynep, deluso e amareggiato, dovrà affrontare la realtà dei fatti. Riuscirà a perdonare sua figlia? E come questo influenzerà la relazione con Kemal? Mentre le tensioni aumentano, Emir non starà certo a guardare. Astuto e manipolatore, potrebbe avere un altro asso nella manica. Quali saranno le sue prossime mosse? Cercherà di distruggere Kemal una volta per tutte? O tenterà di riconquistare Nihan con nuovi inganni? Le alleanze si formeranno e si romperanno. Amici diventeranno nemici e nemici potrebbero diventare alleati inaspettati. Ogni personaggio dovrà fare i conti con le proprie scelte e le conseguenze che ne derivano. E mentre il cerchio si stringe, un nuovo mistero potrebbe emergere. Una figura dal passato potrebbe tornare, portando con sé ulteriori segreti che potrebbero sconvolgere tutto ciò che pensavamo di sapere. La colonna sonora emotiva, le scenografie mozzafiato e le performance intense degli attori renderanno queste puntate indimenticabili. Ogni scena sarà un viaggio emotivo che vi terrà incollati allo schermo. Quindi preparate i fazzoletti perché ci saranno lacrime. Preparatevi a tifare, a gridare e a emozionarvi insieme ai personaggi che avete imparato ad amare. Endless Love non è solo una storia d'amore, è un intreccio di vite, destini e scelte che riflettono le complessità dell'animo umano. In conclusione, le prossime puntate saranno un'esperienza imperdibile. Se pensavate di aver visto tutto, preparatevi a essere smentiti. Il viaggio è tutt'altro che finito e le sorprese non mancheranno. Restate con noi per scoprire come si evolveranno le vicende di Endless Love. Le verità nascoste stanno per venire a galla e niente sarà più come prima.